iscrivetevi al canale Cavaleri Family, commentate e mettete tanti like e dopo una pausa caffè, shopping sull'aliena mi prendo, noi prenderemo mi sa uno slittino abbiamo trovato delle scarpe per aurora, vediamo se vanno bene com'è, scelte, andiamo a prendere la tuta per aurora che ti sta questo? no no, è un po' grande troppo grande, Laurì, secondo me è un po' grande vero? attimi di gioco, attenzione, aurora è pronta al tiro, tiro a gol si, campioni questo è che mi prende vai, vai, come on prendila pronta? uno, due e adesso aurora va a galoppo pronta Aurì? a salire a trotto? la faccio faccio salire io a galoppo vai Aurì, più forte, vai più veloce più veloce velocissima quando io parto devi dire ferma cavallo ok, parti ferma cavallo parti mamma mia che veloce questa bambina con questo cavallo ferma guardate a sorpresa come arriva ragazzi, ma che hai comprato? ultimo doppio fuori dal decathlon cosa troviamo? la neve guardate mi ha detto aurora tocca la neve viva è freddo palca è freddo palca brivido domani partenza per piano battaglia uuuu tomorrow siamo pronti ad andare sulla neve? siiii uuuu tu sei pronta con quelle scarpe più grandi di te guarda allora abbiamo preparato tutto vero Aurì? ma tu le scarpe da neve ce le hai? te le faccio vedere subito aspetta però wow le abbiamo comprati ieri bellissime mamma siamo pronti? siiii adesso mamma claudia aurora e noemi faranno un giro e si trasporteranno in montagna pronti? siamo in montagna ci ritroviamo in montagna sulla neve eccoci arrivati sulla neve con noemi papà salvo e sprizzi adesso andremo dalla mamma claudia ed aurora che ci aspettano con il super slittino la cavalerie femmi non si ferma mai yeee guardate che bello siamo nel bel mezzo della neve yuhuu dai sprizzi dai ma cia miseria ora appena la libero sprizzi la vedrete come corre corre come una pazza squinternata ecco trovate li ho trovate piccole yuhuu dai aurora forza aurora yuhuu ahahah vai aurì vai 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 mamma mia che bello ahahahahah sprizzi sulla neve vai sprizzi è bellissimo ciao ciao ahahahahah ahahahahah ahahahah noemiiii aurora si sta divertendo un macello yeeeh tuffati via di faccia ciao noemiiii chi siamo noi cavalerie femmini stiamo a fare lo scivolo speritolato vero auris ciao la salita è davvero infinita scompariranno tra la nebbia si vedrà solamente un piccolissimo puntino lontano i nostri supereroi riusciranno a scendere con lo slittino lo vedremo nel frattempo sprizzi fa avanti indietro pronti partenza via ahahahahah ahahah ahahah ahahahahah via ahahahahah sfida ad alta velocità ma mamma che cosa usa? una padella padella attenzione la cavalerie family tutta qui pronta sprizzi per fare lo sci del secolo 3 2 3 1 via ahahah 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 brava è giusto è così che si fa brava noemi brava aurora aurora si è beccata tanta neve in faccia ahahah mamma abbiamo vinto noi mi dispiace allora non vi serve la padella eh la padella abbiamo vinto abbiamo vinto mamma aurora vuole fare il pupazzo di neve e pupazzo sia pupazzo di neve sia yuhuuu siamo pronti? a fare il pupazzo di neve ciao fare una palla grandissima il frattempo una piccola creatura se ne sta andando via con lo slittino e per l'ennesima volta dopo l'albero anche questa volta papà salvo terminerà il suo compito da solo com'è giusto che sia perché questo è il suo destino all'interno della famiglia e farsi da solo il pupazzo di neve solo la foto col suo nuovo migliore amico il pupazzo di neve la carota brava aurora il pupazzo sta prendendo forma bravo papi eccolo il pupazzo di neve è finito naso naso occhi veloce sta nevicando un grande nasone questo pupazzone la sciarpa la sciarpa di mamma via che poverina ha freddo questo pupazzone cappello 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 dai il suo dai ed ecco voi l'amico di aurora come lo chiamiamo aurico che lo chiamiamo? hola stiamo cominciando la risalita i cavalleri family non si fermano mai aurora sullo slittino comodissima saluta aurico noemi mamma claudia dai mamma dai forza sta nevicando ma noi ce la faremo guardate la mamma zaino porta a mangiare termos aurora slittino a tutto ma è una mamma insuperabile guardatela manca solo papà in spada arrivo per salire mamma sta nevicando di più la faccia disperata di una mamma la sto facendo però tranquilla guarda vabbè la nostra personal trainer prendetemi a colpi di palli di neve nooo mi arretto via 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 prezi pure tu no no puoi prendere la mamma prendiamola via 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 forte tergicristallo attivo della mamma timedo vieni 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 prodotto scelta chiudi faccio il mio truffo 3 2 ma con la faccia dentro di nuovo perché eccole sono prontissime via bravissime siete bravissime mi posso fare adesso uno io con aurora sono pronti per una nuova strabiliante discesa è tutto pronto li stiamo attendendo al traguardo ci è mancato poco ciao a tutti iscrivetevi al canale Cavaleri Family commentate e mettete tanti like alla prossima ciao ciao